Una gorizia colorata del tricolore italiano si presenta oggi pronta per ospitare gli alpini in occasione della Dunata Nazionale Iulia, che vedrà il capoluogo isontino teatro di una tre giorni dedicata alle penne nere. Le bandiere italiane stazionano ovunque, dai bar alle banche, dai negozi alle farmacie. Le strade, adobate a dovere, si prestano a essere una vivace cornice per questa importante manifestazione. Anche fra la gente si nota un certo interesse per come la città si sia vivacizzata grazie all'arrivo degli alpini. Scorta di vino, scorta di birra, scorta di prosciutto, cotto, insomma siamo attrezzati. Fa bene a Gorizia, fa bene anche alle persone vedere questa gente così, diciamo, che fraternizza con tutti. Si autoregola, si autoregola, cioè non fanno, perché se qualcuno sgara ci sono i vecchi che li riprendono, e ragazzo tu non devi far comportarti male, questo è il bene degli alpini. E sull'importanza storica, culturale, ma soprattutto per l'impegno civico degli alpini, si è espresso il generale di brigata Michele Risi. Gorizia è legata in modo forte alla storia della Iulia. Gorizia ha ospitato nella sua costituzione il nono reggimento alpini, che insieme all'ottavo alpini e al terzo della montagna erano i tre reggimenti della divisione Iulia. E quindi questa adunata del Triveneto rinsalda un po' il legame tra Gorizia, gli alpini e in particolare gli alpini della Iulia. Noi abbiamo voluto contribuire con degli stand espositivi, in cui raccontiamo sia la storia, ma anche la storia presente, dalle operazioni fuori area in Afghanistan, in Africa, ma anche quelle sul territorio nazionale, e anche la nuova identità multinazionale della Brigata Iulia, che ospita la Multinational Land Force.